Sicuramente sono due settimane diverse perché la scorsa è stata quella in cui abbiamo un po' staccato, ci siamo goduti il risultato pazzesco, bellissimo di andare alla Piacenza e vincere di fronte al loro pubblico, loro che erano anche molto sicuri e quindi è stata un'emozione forte, bella, conquistare l'obiettivo di inizio stagione. Poi abbiamo rimesso la testa a posto e questa settimana abbiamo cominciato ad allenarci bene, ieri sera è stato un buon allenamento, qualche errorino, però stiamo bene, carichi e vogliosi di andare a fare una gran partita. La partita con Val Sugana sarà una partita in cui fondamentalmente c'è in gioco l'onore, c'è in gioco il campionato di Serie A, entrambi hanno raggiunto l'obiettivo massimo che era in palio per questa stagione, però noi abbiamo vinto in casa loro, loro hanno vinto in casa nostra e la sfida finale per vedere chi è la migliore squadra di questo campionato. Arriviamo bene, abbiamo fatto veramente una bella partita a Piacenza e ci andiamo a giocare, saremo magari un po' più leggeri sul fatto che il risultato fondamentale dell'obiettivo è già stato raggiunto, però io voglio vincere, non ci sono alternative, non saremo leggeri o non saremo superficiali sicuramente.